Sei una V-lover? Allora scegli tu cosa ci sarà nella terza stagione di Violetta! In un episodio si festeggerà il compleanno di Violetta e Leonna le farà una piccola sorpresa. Quale vuoi che sia? Un muffin con una candelina? Un cupcake con una candelina? Un croissant con una candelina? Vai sul sito di Disney Channel e scegli tu quale delle opzioni proposte preferisci! La scelta più votata sarà presente nella terza stagione di Violetta! Scegli tu! Solo a Disney Channel!